Si è riunito nella Sala dei Baroni questa mattina il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale, una manovra fondamentale che evita il dissesto, ha sottolineato il Sindaco Manfredi, e che rilancia una politica di investimenti per restituire servizi dignitosi alla città. È un bilancio che mira alla ripresa degli investimenti e non al dissesto, perché se le cose fossero continuate come stavano andando, questo sarebbe stato il bilancio del dissesto. Invece noi abbiamo la possibilità di riprendere una politica di investimenti, essenzialmente noi stiamo lavorando su due assi, a mettere a disposizione risorse per la manutenzione, quindi sia la manutenzione delle strade, per il verde pubblico, gli investimenti anche sul patrimonio comunale, diciamo, dell'edilizia economica e popolare, che sono tutti capitoli che per moltissimo tempo hanno avuto praticamente zero di finanziamento. Si cominciano ad arrivare risorse alle municipalità, in maniera tale che le municipalità possano gestire quelle problematiche di prossimità per le quali sono state costituite, e poi si avvia una politica di reclutamento del personale, con un grande concorso che prevede all'inizio mille assunzioni, che il Comune è assolutamente privo di personale, alcune professionalità mancano completamente, il personale è molto anziano, diamo un'opportunità anche ai giovani di poter avere la possibilità di entrare nella pubblica amministrazione, perché senza organizzazione e senza personale non si riesce a garantire servizi, a garantire investimenti, a realizzare le opere. A questo si accoppia un intervento che stiamo facendo di riordino e di messa in sicurezza delle municipalizzate, che garantisce anche l'equilibrio di bilancio e l'inizio del nuovo reclutamento, proprio ieri Asia ha bandito il concorso per 500 unità, perché noi non abbiamo spazzini, quindi non possiamo garantire la pulizia e il decoro che la città merita. Analogamente stiamo lavorando su ABC, su NM, e quindi insomma sono soddisfatto perché si avvia questo percorso di normalizzazione della città, una città moderna, una città che vuole dare una risposta ai suoi cittadini, deve essere organizzata, deve avere un'amministrazione giovane, qualificata, deve avere delle municipalizzate che siano in grado di poter erogare dei servizi dignitose.